possedere oltre ai beni materiali l'uomo di media evoluzione che cosa vuole possedere commento vuole possedere l'altro la propria moglie il proprio marito i figli i suoi dipendenti la gelosia è la foglia di possesso nella realtà noi non possediamo mai nessuno e gli altri non possiedono mai noi tutta la possessività è un'illusione perché per la legge divina al di fuori della nostra evoluzione che poi è noi stessi noi non possediamo mai nulla